Sabato sulla nostra regione giungerà un fronte freddo piuttosto intenso. Domenica permanerà ancora atmosfera umida nei bassi strati e piuttosto instabile. Per sabato dunque prevediamo il cielo coperto già al mattino con qualche debole pioggia sparsa. Poi dal pomeriggio le piogge diventeranno più continue e più forti. In generale ci aspettiamo piogge abbondanti in pianura, moderate invece sulla costa, intensi sulla fascia pedemontana e sulle Alpi, anche localmente molto intense sulle prealpi carniche. Quindi nevicate forti in montagna, al di sopra dei 500-800 metri circa nelle zone più interne, attorno ai 1000 metri circa sulla fascia prealpina più esposta al flusso meridionale. Soffreranno venti piuttosto forti, specialmente di sera quando passerà il fronte, quindi con scirocco forte e mareggiate lungo la costa, ma vento forte lo troveremo anche in serata in montagna, al di sopra dei 1000 metri circa. Temperature saliranno con lo scirocco a Trieste fino a 14 gradi, mentre in pianura non saliranno oltre gli 11-12 gradi. Domenica rimane un po' di instabilità ancora, il cielo sarà tra il variabile e il nuvoloso sulla nostra regione. Ci aspettiamo ancora dei rovesci e dei temporali sparsi durante la giornata. Le temperature massime non saliranno oltre i 12 gradi circa sulla pianura e sulla costa. L'instabilità permarrà ancora per lunedì, poi da martedì un lento miglioramento. È tutto, buon fine settimana!